benvenuti oggi siamo in via cocchi a villanova di bagnacavallo per visitare la casa di valentina la gemma di questa proprietà è il suo esteso giardino di oltre 3000 metri quadri un vero e proprio parco privato vorrei farvi scoprire il fascino ed il potenziale di questa esclusiva casa indipendente situata nella tranquilla frazione di villanova parte del comune di bagnacavallo immersa in una posizione serena è l'opportunità per chi desidera personalizzare il proprio spazio abitativo in un ambiente privato e spazioso necessita di ristrutturazioni ma proprio per questo è una tela bianca ideale per chi ama i progetti di restauro disposta su due livelli la casa si apre su un accogliente piano terra che include un ingresso ed un luminoso soggiorno la cucina è separata pronta per essere trasformata nel cuore della casa questo spazioso ambiente con camino è perfetto per essere trasformato in uno stupendo salotto con affaccio sul giardino al primo piano troviamo tre spaziose camere da letto ciascuna con un grande potenziale per diventare un rifugio confortevole ed accogliente la casa di Valentina è di 160 metri quadrati formata da sei locali è il nostro riferimento 1810 contattaci per visitarla per ricevere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento potete chiamarci allo 0544 80462 oppure inviare una mail a info-agenziacontarini.it segui Agenzia Contarini su facebook, instagram e tiktok a presto